Mi viene in mente solo una parola, nasce veramente dal profondo del mio cuore, ed è grazie. Cercherò di ripagare questa grande fiducia che mi è stata data e questa anche grande gioia che mi avete dato. Nel meglio e nelle mie possibilità. Voglio dire che in ogni caso, e ci tengo a Dio, e lo voglio dire davanti a tutti, Carlo Magri è un mio amico. E in tale resterà. Per il resto, posso solo dirvi che mi impegnerò al massimo. Cercherò di fare le cose al meglio.